Vediamo le informazioni più importanti. Allora, il 31 dicembre 2008 la popolazione residente del Comune di Lecce è aumentata dello 0,6%. Interessante il dato a livello di circoscrizione. La seconda circoscrizione è quella che presenta il maggior numero di residenti. Ancora nel 2008 il saldo naturale si mantiene negativo, compensato dal valore di un saldo migratorio che è aumentato di 619 unità in più. Pure la componente migratoria rimane positiva anche se inferiore rispetto all'anno precedente. Il 5,2% della popolazione complessiva è rappresentata dagli stranieri. È interessante notare che contrariamente a quanto registrato sino al 2006, già da 2007 prevale il sesso femminile rispetto a quello maschile. Il flusso più consistente degli stranieri proviene dall'Asia, seguito da paesi europei e dall'Africa. Anche qui a livello di circoscrizione sembra che la popolazione straniera sia più elevata nella prima circoscrizione, mentre più bassa nella quinta circoscrizione. e ci sia un raggruppamento della popolazione straniera in maniera rilevante in alcune aree della città rispetto ad altre. Per esempio i cittadini montegrini si concentrano nella quarta e quinta circoscrizione, gli albanesi nella prima e nella terza circoscrizione. Per quanto riguarda il discorso della sanità, i dati della mortalità purtroppo dell'Ista che risalgono soltanto i più recenti sono quelli del 2006 ed emerge anche per il 2006 che la mortalità maschile è più elevata rispetto a quella femminile. Anche nel 2006 la causa di morte più frequente è quella connessa alle malattie del sistema circolatorio, seguono i tumori, per i maschi appunto la mortalità per tumore è la principale causa di morte.